Come ci vedono al di fuori delle nostre mura, perché noi siamo abituati... Uno strumento fondamentale per il rilancio, la crescita del turismo e dell'economia della città. È stato presentato ieri il Piano Strategico per il Turismo 2020-2024, il progetto del Comune di Fano guidato dal destination manager di fama internazionale Josef Ejark, che mira a stabilire le basi per lo sviluppo sul piano turistico della città della fortuna, valorizzandone il territorio ed il patrimonio culturale, rendendo Fano maggiormente percepita dai mercati. Un piano realizzato in un momento cruciale e difficile come quello del Covid, che tiene conto di come la pandemia abbia modificato le necessità dei turisti, dettando le regole, per una ripresa ed un percorso di crescita che va dal 2021 al 2024. Il piano contiene una serie di parti organizzative, come organizzare il lavoro, e ci dice che dobbiamo organizzarlo sì con la regia dell'amministrazione comunale, ma anche nel rapporto con le associazioni, con i privati, quindi dobbiamo realizzare delle vere e proprie reti di prodotto. Il piano ci dà degli input su delle azioni concrete per valorizzare i nostri cluster culturali, quindi la città di Vitruvio, la città del Carnevale, la città dei bambini e delle bambine, capire come questi progetti possono essere maggiormente vissuti con delle esperienze. Il piano ci dice com'è meglio vendere la nostra città al di fuori delle nostre mura, quindi qual è la visione che dobbiamo dare al mercato turistico, e quindi parla in questo caso di città green and blue, quindi parla del nostro mare e parla della possibilità di vivere la città in modo green, in modo sostenibile, in modo tranquillo, in modo sicuro. E detta tre principali prodotti, che sono il family, sul quale già stiamo lavorando in questo anno, l'outdoor e il well-being, il well-being è la qualità della vita. Ecco, da questi macro prodotti si sviluppano tutte quelle che sono le caratteristiche della nostra città. Il piano ci dice che dobbiamo lavorare insieme, ha continuato Lucarelli, è una partenza per un cammino che dovremo condividere noi come amministrazione, assieme alle attività economiche e dalle associazioni, lavorando in sinergia per far crescere il turismo. Una volta che la pandemia sarà passata, farsi trovare pronti per portare gente nella nostra città e valorizzare, far vedere le nostre bellezze, il nostro territorio, perché ricordiamoci che il nostro territorio è talmente ricco, è proprio una perla incastonata, come abbiamo sempre detto, nella nostra regione, è importante. Noi, come associazione di categorie, abbiamo fatto veramente degli incontri importanti con l'assessorato al turismo e con EIARC e abbiamo cercato di dare il nostro contributo proprio perché portare gente crea appunto economia e bisogna riportare tutto questo nella nostra città.